Il territorio con Paolo Montemurro e Fabio avevano fatto il loro coinvolgendomi, domani vedremo. Un imprenditore di Varese che sceglie Bari perché? Ma abbiamo coinvolto francamente, poi Bari ormai sicuramente è una piazza importante per chi vuole far calcio, poi ha dimostrato che c'è voglia di farlo, farlo bene, vediamo. Un pronostico per questa sera, Bari Cittadella? No, non lo faccio a Bari, forza a Bari però. Forza a Bari. Ma i tifosi devono stare tranquilli perché comunque oggi con questo atto sicuramente c'è una sicurezza e adesso che non si rompa la chimia che si è creata e si vada fino in fondo in questo sogno. Grazie. 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 Grazie.